perché perché non faccio più video perché sto sto morendo piano piano perché mi sono rotto le scatole senti statisti gente che scrive libri che prevede il futuro il grande reset si perché vogliono fare il grande reset e vogliono fare questo vogliono togliere il contante vogliono le banche che le banche comandino tutto e come il mondo come lo conosciamo noi adesso non lo rivedremo più vogliono fare questo vogliono fare quello le grandi aziende i grandi capitali ma c'è qualcuno che dice chi sono questi riusciamo a capire chi sono questi qui o no che io chiamo quelli lì il problema è questo perché ci additano come complottisti ci additano perché siamo negazionisti e questo del di questa pseudo pseudo pandemia e allora tutte queste persone fat checkers gli odiatori su sui social e tutto così beh sì perché allora io ho scritto il libro che ha detto ho detto era di fantascienza ma si avverato sì ma chi ma chi chi sono quelli lì perché non lo dite perché non lo potete dire non si può dire è vietato dirlo soltanto sui social qualcuno ci ha provato e gli hanno chiuso il canale gli hanno chiuso l'account gli hanno chiuso tutto e se l'è passata anche abbastanza bene perché non poteva andarli poteva andarli anche un po un po male chi chi sono quelli lì troppi noi diciamo troppi capiscioni quelli che capiscono tutti i capiscioni tutti sanno quello che sta succedendo ma nessuno punta il dito su chi sta facendo questa grossa operazione mondiale sì vabbè abbiamo capito big gates e company d'accordo ma sono loro veramente i capi sono veramente loro i capi chi sono i capi chi sono quel pugno di persone che sta facendo tutto questo ecco la domanda chiave ma più che domanda chiave la domanda chiavica questa è la domanda chiavica che nessuno o meglio tutti si fanno ma nessuno dice allora tutti questi grandi parlatori come per esempio a radio radio come per esempio di questi talk show ovviamente non parlo della tv voi lo sapete la tv per me è tabù da 20 anni ormai buttato la televisione quasi 20 anni fa quindi tutti questi talk show su internet su youtube le live eccetera che parlano succederà sta succedendo questo perché vogliono fare vogliono chi vogliono chi vogliono fare chi i grandi i grandi poteri economici perché si stanno facendo chiudere le piccole imprese rimane in piedi solo il mcdonald rimane in piedi soltanto amazon rimane in piedi soltanto le grosse le grosse distribuzioni mondiali che poi fanno capo sempre agli stessi agli stessi chi per colpa di chi 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 chi